La convenzione siglata con il Regina Elena in campo urologico consentirà al San Carlo di acquisire tecnologie e pratiche cliniche all'avanguardia internazionale ed è un accordo tra soggetti di pari dignità perché l'Istituto Tumori di Roma ha riconosciuto all'Urologia Lucana quegli standard di eccellenza che sono requisiti essenziali per una collaborazione di alto profilo. Un risultato importante per il direttore del San Carlo, Giampiero Maruggi, riuscire a portare a potenza una delle massime autorità mondiali nella chirurgia urologica. Per Michele Gallucci, primario del Regina Elena, in fondo si tratta di un ritorno a casa. Il grande chirurgo è infatti nato a Pietragalla nel 1950 ed è figlio d'arte, il padre era il medico condotto. Il legame con le origini e tra le ragioni che hanno spinto Illuminare a rinunciare al suo compenso professionale per dirigere il comitato scientifico che coordinerà le attività di scambio e di collaborazione tra San Carlo e Regina Elena. Gli urologi dell'ospedale Lucano andranno a Roma per aggiornarsi sull'uso dei robot per l'asportazione della prostata e il professor Gallucci e il suo team verranno ad operare a potenza. Dunque numerosi pazienti del sud Italia potranno essere seguiti dal San Carlo, una struttura a giudizio di Gallucci pienamente affidabile.